RECORDBOX 7 lo spoilerone! Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude finalmente alla luce RECORDBOX 7 in versione beta da oggi vi spiegheremo le principali funzioni e principali cambiamenti di uno dei software più usati da tutti i dj che cosa sta cambiando andiamolo a vedere bene era nell'aria questo RECORDBOX 7 questo cambiamento e Alfa Teta attenzione perché come avevamo già annunciato in molti video e come abbiamo visto sui nuovi controller e sulle nuove casse adesso anche RECORDBOX prende il nome di Alfa Teta quindi non più Pioneer DJ RECORDBOX 7 ma Alfa Teta RECORDBOX 7 che ha pubblicato la prima versione beta e dove tutti potete andare anche a scaricarla e provarla dopo vi dirò dove è già il primo cambiamento ve l'ho annunciato cioè Alfa Teta e non più Pioneer DJ ma cambiamenti veloci che andremo a farvi vedere anche perché abbiamo scaricato la versione per farvi vedere alcune cose sono il primo auto cue point analisi quindi a fronte di un'analisi si avranno già i punti di cue memorizzati questo potrebbe essere molto comodo playlist di tracce correlate la funzione track suggestion all'interno di RECORDBOX 7 con le opzioni di collection radar streaming radar in base ad era mood e association miglioramenti per il lettore sull'export mode ma anche un pannello di preferenze completamente cambiato rivoluzionato revisionato anzitutto dove poter scaricare il tutto ecco qua la pagina ufficiale di RECORDBOX versione 7 disponibile da adesso potete scaricarlo poi vi leggeremo anche tutto ecco qua download link vi metterò tutto in descrizione con tutte le novità ma attenzione perché quando andrete ad installare la RECORDBOX beta vi ricorderà che questo è un beta testing quindi di fare il vostro backup del database prima di usare questa versione che la stabilità delle performance non è garantita in questo beta testing quindi di non usare posti pubblici come i club così se no avrete dei problemi potreste avere dei problemi non si assumono nessuna responsabilità se tutto questo di vostro gradimento potete provare la RECORDBOX beta ed eccola qua la versione 7 di RECORDBOX con alcuni cambiamenti vedete già un po la grafica e l'interfaccia che è cambiato anche qua sembra essere un pochino diverso ma soprattutto nella parte sinistra e non solo ricorda molto virtual dj ecco qua tutti i vostri campi quindi la collection con tutti gli audio la playlist con i cue analysis che fa vedere tutte le tracce analizzate quindi qua si può partire a fare l'analisi di tutte le playlist RECORDBOX XML l'explorer all'interno del computer vostro computer i dispositivi le cronologie la registrazione e poi per andarvi a ricercare un dispositivo ecco questo per la performance mode ma anche per la export mode ci sono dei cambiamenti ecco qua stessa barra e il primo vero cambiamento è quello della export che può avere due lettori che già aveva ma impilati in maniera semplice in maniera full browser chiaramente richiede un piano diverso quindi se volete avere questa possibilità dovrete aderire ai piani di RECORDBOX stesso discorso dei piani per andare a fare un'analisi della traccia quindi se io vado a caricare la traccia potrò avere tutta la visualizzazione in questo caso ma fare un'analisi che come vedete anche qui stesso discorso dei piani oltre al BPM grid la tonalità il phrase e il vocal che era già a pagamento c'è anche l'auto cue cioè che vi va a posizionare le tracce esattamente con i punti di cue già messi da lui quindi a fronte di un'analisi che richiederà molto tempo farà una situazione del genere l'unico software che al momento lo fa già è mixed in key quindi che vi va ad analizzare le tracce e vedete vi va a mettere i vari punti di cue già per la traccia che poi insomma molti sanno già come mettere sul proprio software adesso per i più pigri ci sarà questa opzione e cioè auto cue point analisi che presentando proprio spunto da mixed in key aggiunge automaticamente hot cue memory cue alle tue tracce l'analisi come dicevo richiede un po di tempo ma una volta terminata avremo tutti i punti che ci interessano esattamente dove li mette lui cioè per i punti salienti della traccia dove ci sono i cambi come possiamo vedere qua i cambi di ritmica situazioni di pause o situazioni di intro o di outro soprattutto in funzione del phrase come viene già divisa per quelli pigri potrebbe essere una buona opzione questi punti di cue vengono contrassegnati dalla scritta auto da non confonderli con gli altri punti di cue vostri ecco poi l'altra novità è la playlist delle tracce correlate quindi brani correlati che è in sostanza la stessa situazione di filtro che possiamo avere su molte appare picchiature indipendenti per dj in cui puoi specificare i criteri in base ai quali filtrare ai brani per scegliere qualcosa di adatto da mettere come traccia successiva ma qui cambiano un po di situazione come vedete ne abbiamo un po di più si può filtrare con bpm tonalità anno data di aggiunta corrispondenza cronologia stesso artista brani dello stesso genere nello stesso compositore dello stesso remix nella stessa etichetta brani dello stesso colore in base al rating ai commenti al my tag e in più formati dei file tra i cui wave if flac alac a ac mp3 oppure i vari soundcloud beatport beatsource tidal e tutti i formati video qui potete mettere tutti i vari campi come vi avevo fatto vedere sul tutorial dei brani correlati quindi più campi per andare a personalizzare il tutto un altro cambiamento che è proprio stato aggiunto ed è una cosa molto molto simile a virtual dj a quale record box diciamo lo si ispira moltissimo ultimamente è quello del collection radar che vedete qua collection radar e streaming radar questa è una cosa simile ma con un database cloud online va a suggerire le tracce da riprodurre successivamente in base a ciò che suonano gli altri dj o ad altri criteri di intelligenza artificiale che ancora non sono stati ben documentati e come detto molto simile a virtual dj e gli puoi dire di suggerirti anche brani dal tuo servizio streaming radar e anche in questo caso c'è un pannello che ci va a consentire impostare i criteri da utilizzare e questo è completamente nuovo e potrebbe essere importante per chi vuol fare dj set non proprio originali vedete scegliere dallo streaming tipo soundcloud la chiave relativa oppure la chiave relativa 2 o la chiave relativa 3 per stesso genere house uk garage e un sacco di generi ma possono anche includere vocali o solo strumentali e andare a dividere qua adesso molte condizioni di tracce da poter variare e raccomandare in più la personalizzazione di brani con anno di uscita vicino con mood simile o con associazioni qualica artista etichetta quindi brani che condividano le stesse caratteristiche e qui veramente siamo a prova di scemo come si suol dire ma proprio andare a vedere quello che suonano altri dj per suonarlo anche te ok può essere un'indicazione utile ma veramente a me fa anche parecchia tristezza anyway miglioramenti per il doppio lettore come detto export in export mode possiamo avere la lettura verticale e poi un pannello delle preferenze completamente revisionato che a molti sembrano un piacere perché anche qui somiglia parecchio a virtual dj vedete adesso è tutto strutturato sulla sinistra piani che vi spiega il piano attuale il cloud la visualizzazione con tutti i campi che sono un pochino più grossi caratteri sono più ordinati sembra un pochino più pulito a me tutto sommato non dispiace qui la situazione audio la situazione dell'analisi del dj system della tastiera avanzate che tutto ciò cambierà se vado a cambiare come ben sapete da export a performance mentre per quel che riguarda l'audio che adesso mi facciamo sentire per situazioni di copyright con gli stems non sembra cambiato niente quindi al momento non ci sono variazioni sulla beta per quel che riguarda il record box 7 e la qualità che come sappiamo è una delle più basse rispetto già anche a serato e sicuramente decisamente rispetto a dj pro ultima versione e virtual dj stems 2.0 che sembra essere la migliore su tutte se la gioca un po con dj pro diciamo ecco questo considerate che vi sto facendo vedere una versione beta che potete scaricare anche voi e quindi trattandosi di versione beta tutto può cambiare magari con la 7.1 e magari potranno implementare gli stems o cambiare altre cose questa è la versione attualmente disponibile per chi ha i piani ma anche per chi non ha i piani la free e la vuole provare come stiamo facendo in questo caso come vedete sostanzialmente le cose sono cambiate un po a livello grafico ma abbiamo un discorso apparecchio similare e allora vi piace non vi piace fateci sapere le vostre impressioni qui sotto che cosa manca secondo voi che cosa vi state aspettando da questo record box 7 i commenti qui sotto corsi per dj corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact compilando il form oppure tramite le nostre pagine social corsi indirizzati per chi inizia da zero per chi è già bravo e vuole migliorarsi e non ci riesce da solo e per chi vuole fare il salto definitivo verso la categoria dei professionisti consulenze anche su tutti gli argomenti trattati da sos4dj sul canale hardware software comprese le tematiche legali del suonare in regola molto molto importanti e soprattutto da sapere per evitare rischi oltre a facebook e instagram trovate il nostro tik tok potete seguirci anche qui c'è anche la nostra community telegram se vuoi farne parte è tutto gratis il nostro canale youtube se vuoi poi scriverti ci darai una grossa mano e sarai sempre informato se cliccherai sulla campanella di tutto ciò che accade sul canale in tempo reale quindi nuovi spoiler come queste nuove recensioni nuovi tutorial dirette e tutto quello che accade sul canale valuta anche l'abbonamento dove ti dà una corsia preferenziale e video in anteprima tantissimi video tutti divisi in playlist che parlano solamente del tuo mondo quindi dj e produzione musicale sempre in anteprima se vuoi puoi anche mettere un mi piace o condividere e aiutarci tramite sostiene il progetto sos4dj qua su paypal o super grazie qua sotto dove leggete il cuore oltre a tutto questo c'è anche il nostro official merchandising con la linea anyway e tutte le altre linee su s4dj play vota like suono solo quello che mi piace ragazzi 7 è pronto record box arriva alla versione 7 e sarà rilasciato fra poco da quel che sembra perché la beta durerà dal 6 febbraio fino al 19 febbraio 2024 dopodiché potrebbe uscire ufficialmente per tutti voi fateci sapere le vostre opinioni nei commenti da parte di ss4dj cloud vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una bellissima giornata bella attiva e solare divertente ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è importantissima per darvi sempre tutto questo in anteprima e che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio